Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del TG6, apriamo il nostro telegiornale parlando del settimo anniversario del terremoto che il 6 aprile del 2009 ha distrutto l'Aquila, l'anniversario caratterizzato dalla ormai consueta fiaccolata che si è svolta per le vie del centro storico dell'Aquila proprio la scorsa notte ed è culminata con la lettura in piazza dei nomi delle 309 vittime. Quest'anno la fiaccolata è stata anche caratterizzata dalle polemiche sulle inchieste giudiziarie grandi rischi e sulla prescrizione per l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. 309 nomi, 309 colpi al cuore letti nella notte più lunga per la città dell'Aquila che sette anni dopo si ritrova unita nel dolore e nella speranza di un futuro da ricostruire. In migliaia si sono ritrovati in via 20 Settembre per la fiaccolata che si è snodata per le vie del centro davanti a luoghi simbolo di una tragedia collettiva indelebile come un tatuaggio sul cuore per ricordare chi non c'è più ma soprattutto per dimostrare che l'Aquila ha voglia di tornare ad essere quella del 5 aprile 2009. 2850 cantieri aperti, alcuni anche già chiusi, altri si apriranno, più di 2 miliardi di investimenti, il 75% delle persone che dovettero abbandonare la propria casa sono rientrate nelle loro abitazioni. I numeri ci dicono che c'è stata un'accelerazione importante in questi due anni, dobbiamo continuare così, i problemi non mancano, è ora che l'Aquila torni a essere quella città viva, quella città che ha un futuro produttivo, un futuro di cultura, di formazione. C'è poi un altro capitolo altrettanto doloroso, quello dei processi, delle inchieste, della sede di giustizia che a molti ha lasciato una sensazione di amarezza in bocca dopo la sentenza di Cassazione che ha assolto 6 di 7 membri della commissione Grandi Rischi. C'è un altro filone in cui è coinvolto l'ex numero 1 della protezione civile, Guido Bertolaso, il processo Grandi Rischi Bis, che ha annunciato di voler rinunciare alla prescrizione che però scatterà d'ottobre. In 3.000 hanno sottoscritto una petizione per invitare il candidato sindaco di Roma, del centro-destra, ad affrontare il giudizio. Non si può ripartire con una nuova vita se non si chiarisce e si fa piena luce sulle vicende che hanno portato a morte cittadini italiani, sul suolo italiano, quando le responsabilità dello Stato italiano in tutte le sue diramazioni sono scritte nelle carte dei tribunali italiani. Poi bisogna che non vengano alterate quelle carte. E proprio sulla rinuncia annunciata alla prescrizione di Bertolaso che scatterà nel mese di ottobre è intervenuto oggi nel corso del nostro telegiornale in diretta, nell'edizione delle 14, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenta. Andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervista. In questi sette anni si sono portati anche grandi processi, uno contro la commissione Grandi Rischi che si è concluso, poi c'è un processo bis in cui è coinvolto l'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso, oggi possibile candidato alle elezioni amministrative di Roma, ma è un processo che sta andando verso la prescrizione. Ieri sera è stato richiesto a gran voce, Bertolaso rinuncia alla prescrizione. Secondo lei che cosa accadrà? Rinuncerà? Guardi, la parola candidato viene da candido perché chi nell'antica Roma si candidava per un'incarica pubblica indossava una tunica bianca, il segno appunto di un candore. Se ti vuoi candidare al sindaco non puoi lasciarti la macchia di pensare e poter utilizzare una delle vergogne del sistema giudiziario italiano contro il quale mi sono battuto in Parlamento che è quella della prescrizione, perché la prescrizione è una vergogna tutta italiana e per cui anche io ho firmato l'appello dopo che avevo fatto le dichiarazioni pubbliche in questo senso. La prescrizione è brutta per tutti, ma che un candidato al sindaco di Roma Capitale pensi poter usufruire è vergognoso. Sono passati sette anni da quel 6 aprile del 2009, le emozioni delle persone che hanno percorso nelle ultime ore le strade della città, del centro storico dell'Aquila, sono sempre fortissime così come è forte il ricordo delle vittime, del sisma e la nostalgia per una città che non c'è più. Germana Dorazio, la nostra collega della redazione dell'Aquila, ha ascoltato in questo Vox Populi Aquilani e Nonna. Da dove viene? Provincia di Pisa. Che impressione si è fatto camminando per la città? È devastata, sembra quasi che ci sia stato un bombardamento. Con quale spirito un aquilano in una giornata del genere passeggia, cammina, si trova tra queste mura distrutte della città? È un attimo di riflessione. Sicuramente si rivivono molte emozioni di quella notte, di quel giorno. E' un giorno particolare che ha segnato tutti e non si possono assolutamente dimenticare quelle 309 vittime. Ho fatto la via principale in silenzio, con rispetto, ho visto la manifestazione delle moto, mi ha emozionato e quindi sono stata nel rispetto più assoluto. Tutte le volte che vengo qui è una giornata triste. Che sensazione si prova in questa giornata particolare tra gli studenti? Che anni mi raccogliete? Io penso che gli studenti in primis si sentono toccati da questo, perché è crollata il simbolo di quella che è l'università, di quello che è il futuro. Rialzarsi lo si fa piano piano, poi gli aquilani sono forti, quindi la speranza non deve mai mai abbandonare questa città. Siete studenti qui all'Aquila? Sì, al primo anno. Perché avete fatto la scelta di rimanere oggi qui all'Aquila in una giornata così particolare? Perché mi sembrava doveroso dover ricordare questo evento. Insomma, è stato un evento tragico, quindi un senso di partecipazione, solo per questo. Un aquilano doc in giro per l'Aquila, il giorno dopo la fiaccolata, ha ancora in mano le fiaccole. Non ha potuto partecipare per motivi di salute, ma con il cuore sicuramente c'era. Che cosa si prova a sette anni dal sisma a camminare anche con fatica in questa città, non solo fisica? Si prova che non incontri più la gente che dovevi incontrare, non si conosce più nessuno. Avevo 120 metri per se l'hanno preso, ho dovuto strare tre anni per riprenderli. Me l'hanno ritati e adesso stanno lavorando ancora per risistemarmi l'officina. È un anno che stanno a lavorare per me. Lo vede un futuro in questa città per lei? Il futuro non ci si starà più. Perché? Perché troppi magnacci in giro. Non ce n'è uno che non si sta a approfittare del terremoto. Noi chiudiamo questa doverosa pagina dedicata proprio al ricordo della tragedia del 6 aprile del 2009. Apriamo la pagina invece della cronaca perché la Capitaneria di Porto di Pescara ha posto sotto sequestro nel pomeriggio l'intera discarica di Villa Carmine a Montesilvano, oltre che l'argine fluviale adiacente sul quale percolavano i liquami. La discarica di Villa Carmine, realizzata intorno alla seconda metà degli anni 70, è stata utilizzata dal comune di Montesilvano sino a circa un decennio fa, prima di essere messa e dismessa a seguito del raggiungimento del tetto massimo di conferimento di rifiuti autorizzato. Il sequestro arriva a seguito di un'intensa attività di indagine iniziata con una serie di sopralluoghi finalizzati a individuare emissioni illecite e scarichi abusivi nelle acque fluviali del Saline. Il provvedimento di sequestro è stato emanato dal GIP del Tribunale di Pescara ed è stato ritenuto necessario in quanto è stata rilevata una cattiva gestione della discarica che di fatto ha provocato un grave degrado con conseguente danno ambientale. All'attuale commissario ad acta sono stati contestati in concorso i reati di inquinamento ambientale, danneggiamento, getto pericoloso di cose e mancata bonifica del sito. Parliamo ancora di cronaca a vertice in procura e riunione in prefettura dopo le fiamme che hanno divorato lo stabilimento di Ancarano della Italpannelli. Nessun allarme ambientale per le coltivazioni, il punto nel servizio di Elisa Leuzzo. Il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni ha incontrato vigili del fuoco, carabinieri e ASL per fare il punto della situazione per quanto concerne l'inchiesta sul rogo della Italpannelli di Ancarano. Al momento non sono emerse grandissime novità e nell'inchiesta non ci sono indagati, mentre la causa scatenante delle fiamme sembra essere quella emersa nei giorni scorsi, ossia i lavori di saldatura di una rete del gas sul tetto dello stabile andato a fuoco. In coincidenza con il vertice in procura, si è tenuta una riunione operativa negli uffici della prefettura, riunione chiesta dalle parti sociali, FIOM CGL, WinWill, da Confindustria e dalla direzione aziendale della Italpannelli. Tavolo istituzionale utile per verificare lo stato della situazione per una ripresa dell'attività produttiva. Alla riunione, oltre al prefetto Walter Crudo, erano presenti anche il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, i rappresentanti della società Italpannelli SRL, della direzione provinciale di Confindustria e delle organizzazioni sindacali di Ascoli Piceno, accompagnati dalle RSU dei lavoratori. Alle rassicurazioni degli amministratori della società, decisi a tutelare i livelli occupazionali dell'azienda, anche facendo ricorso ad un contratto di solidarietà precedentemente stipulato con i lavoratori, si sono unite con le delle istituzioni che supporteranno, per quanto reso possibile dagli sviluppi della vicenda e delle indagini, i lavoratori e l'azienda per una ripresa dell'attività produttiva. La proprietà ha garantito il massimo impegno per tornare alla situazione preincidente, ribadendo la volontà di totale salvaguardia della mano d'opera attuale. Intanto, il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, fa sapere che in seguito ad informazioni acquisite in maniera non ufficiale, sembrano essere negative, dunque positive per la salute, le analisi effettuate sui prelievi fatti sui prodotti della terra nel territorio di Ancarano. Restano stazionarie le condizioni del Vigile del Fuoco, il 47enne in servizio al dissaccamento di Nereto, rimasto ferito durante l'intervento di martedì scorso alla Italpannelli. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Pescara ha arrestato due rom che gestivano a Rancitelli una rete di spaccio di cocaina ed altre sostanze stupefacenti, con la copertura di un esercizio commerciale. Le fiamme gialle pescaresi monitoravano nel quartiere Rancitelli un intenso ed insolito via vai nei pressi di un piccolo market che anche in orario di chiusura riceveva da molti clienti. Nel corso delle indagini è stato necessario decriptare il linguaggio e i disegni convenzionali utilizzati dai clienti tutti identificati per capire e ricostruire la rete di spaccio. La droga destinata alle consegne veniva nascosta all'interno di flaconi di detersivo. L'operazione è scattata nella prima mattinata, visto impegnati i militari del nucleo di polizia tributaria di Pescara in varie perquisizioni domiciliari con l'ausilio di due unità cinofile. Lasciamo la cronaca, parliamo di politica e allo stesso tempo di sanità perché il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi torna a denunciare il presunto sperpero di denaro pubblico per la realizzazione dell'annunciato ospedale di Chieti. Dopo le denunce rimaste senza risposta, i grillini inviano una missiva a tutte le parti coinvolte nel project financing. Francesca Romana Testi. Il Movimento 5 Stelle torna sul caso dell'ospedale di Chieti e soprattutto sull'annunciato project financing al quale avrebbe intenzione di ricorrere la regione Abruzzo. Un progetto che, come denunciato dai grillini, comporterebbe una spesa maggiorata di ben 800 milioni di euro. Un impegno economico trentennale che tra sei anni graverà in maniera significativa sulla regione. Nessuna risposta dalla regione Abruzzo sul tema e così 5 Stelle inviano una missiva all'attenzione di tutti gli attori coinvolti. Non c'è risposta per cui abbiamo inviato una comunicazione al presidente D'Alfonso, a tutti i componenti della giunta e a tutti i dirigenti perché abbiamo letto i documenti e il nostro non è un no ad un nuovo ospedale, il nostro è un no al ricorso alla procedura del project financing che costerà agli abruzzesi almeno 800 milioni di euro in più del dovuto. La preoccupazione resta quella di una dissennata spesa evitabile. L'alternativa esiste, spiega Sara Marcozzi, che, dati alla mano e viste tutte le voci di capitolo annesse al project financing, ricorda la possibilità di ridurre la spesa da 3 miliardi e 200 milioni di euro a ben 2 miliardi e mezzo. L'alternativa è come si è sempre fatto e cioè la ASL ricorre autonomamente, la regione ricorre autonomamente a affidare una progettazione e costruzione. I soldi ci sono, l'abbiamo detto più volte, eventualmente si può fare ricorso a cassa depositi e prestiti senza, come dire, gravare eccessivamente sulle casse della regione e quindi sui cittadini. E noi parliamo ancora di sanità perché ha lo studio l'azienda mista ospedaliera universitaria e in particolare avviare un percorso condiviso per sperimentare nuovi modelli organizzativi in sanità non escludendo l'istituzione di un'azienda mista ospedaliera universitaria. È stato questo l'argomento al centro dell'incontro di questa mattina nella sede della regione a Pescara al quale hanno partecipato fra gli altri il presidente della regione Luciano D'Alfonso, l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, il prorettore dell'Università dell'Aquila Carlo Masciocchi, il direttore del Dipartimento regionale Salute Welfare Angelo Muraglia, il direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale Alfonso Mascitelli, i direttori generali delle Asle dell'Aquila e di Teramo Carlo Tordera e Roberto Fagnano ed il consulente Roberto Marzetti. L'assessore Paolucci ha posto l'accento sul quadro normativo che sta cambiando con un'ulteriore riduzione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato e l'imminente introduzione di controlli ancora più stringenti sulla spesa da parte del Ministero delle Finanze. E noi lasciamo la sanità per parlare di occupazione. Filt-CGL in stato di agitazione contro la gestione regionale nei confronti del trasporto pubblico. Sciopero indetto per il 13 maggio e una lunga serie di mancanze da parte del Governo regionale riaprono le tensioni con i sindacati. Sindacati in regione e i ferricorti, di nuovo il caso dell'azienda unica di trasporto abruzzese torna a creare spaccature su scelte e gestione dopo la tanto attesa fusione. La questione ora ruota attorno a diversi punti che hanno portato la Filt-CGL alla dichiarazione di sciopero regionale per il 13 maggio prossimo. Tra le motivazioni compaiono drastica riduzione delle risorse destinate al settore 10 milioni di euro in meno e ancora mancata individuazione dei servizi minimi garantiti e delle regole vede il caso dei vettori privati che si sovrappongono alle tratte regionali la mancata realizzazione del pubblicizzato biglietto unico e la privatizzazione dei servizi commerciali. Uno sciopero che abbiamo indetto per contestare la politica regionale sui trasporti a cominciare dalla questione delle risorse che è fondamentale la regione Abruzzo, io lo ricordo, ha tagliato già nel bilancio 2015 ben 10 milioni di euro dal Fondo regionale dei trasporti oltre a questo taglio c'è un taglio imposto dal governo nazionale, dal governo Renzi che ha interessato ben 6 regioni a statuto ordinario tra le quali c'è l'Abruzzo. Il taglio per l'Abruzzo incide per 8 milioni di euro. Ad aggiungersi allo sciopero poi arriva anche la cosiddetta procedura di raffreddamento o stato di agitazione dove si contestano i servizi di noleggio Gran Turismo che risulterebbero in costante perdita le attività in concorrenza sui servizi essenziali l'emissione di bandi di selezione interna in assenza di un regolamento avanzato e di un confronto tra le parti per l'organigramma l'assenza di attività di verifica circa l'evasione come richiesto dal mese di ottobre a gran voce e anche l'assenza di un'amministrazione trasparente accusandoli di gravi violazioni e mancati adempimenti delle norme relative. La regione Abruzzo non ha individuato i servizi minimi nonostante ci fosse la sentenza del Tar che aveva già lanciato un grido d'allarme rispetto a questa situazione. Questo ha determinato che adesso dei vettori privati si interpongono all'azienda pubblica facendo i servizi di TPL e anche dei collegamenti importanti che collegano l'Aquila con Roma. Noi parliamo ancora di occupazione perché sono stati convocati dal prefetto di Pescara questa mattina gli ex interinali di Attiva che da tre mesi protestano per la perdita del proprio posto di lavoro. Al tavolo hanno partecipato anche i vertici della società di gestione della raccolta di rifiuti il sindaco di Pestara, il presidente del Consiglio Comunale e di rappresentanti degli ex lavoratori. È stato convocato per questa mattina dal prefetto di Pescara, Francesco Provolo il tavolo d'incontro tra le parti per il caso degli ex lavoratori interinali di Attiva che da ormai tre mesi manifestano con un presidio fisso davanti al palazzo di città. Il tema è quello della richiesta di lavoro a fronte di contratti definiti illegittimi e la richiesta di conversione in quelli a tempo indeterminato. Presenti al tavolo i vertici di Attiva, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e tre rappresentanti degli ex interinali. L'intervento del prefetto si è incentrato sull'intenzione di trovare un accordo capace di spostare dalle proprie posizioni diversi attori del caso. I rappresentanti di Attiva hanno ricordato l'impossibilità di contrarre i nuovi contratti definiti già da loro illegittimi. Dal canto loro gli ex lavoratori hanno chiesto di poter essere impiegati per l'imminente stagione estiva che richiederà un aumento di forza lavoro. Almeno hanno spiegato in attesa di giudizio, poiché l'11 maggio prossimo si apriranno le prime cause intentate dagli ex interinali. Il sindaco di Pescara si è dimostrato disponibile a cercare nuove soluzioni annunciando di voler incontrare i suoi tecnici per rivedere le carte e interrogarsi su altre possibilità. La settimana scorsa intanto si era recato a Roma per un incontro al Ministero del Lavoro già informato sui fatti. La questione resta ancora aperta ma il prefetto di Pescara ha sottolineato la libertà di manifestare come diritto garantito dalla Repubblica Italiana invitando però gli interinali a non ripetere i comportamenti che possano rivelarsi offensivi verso le parti in causa. E ci sono volute nuove ore di trattative serrate per chiudere l'accordo per la vertenza della Brioni Romanstein di Penne. In 139 andranno in mobilità volontaria, c'è poi la riduzione dell'orario di lavoro, la reinternalizzazione di alcune produzioni e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Lunedì l'assemblea con i lavoratori a Penne. La firma davanti all'assessore alle attività produttive della regione Giovanni Lolli e al sindaco di Penne Rocco D'Alfonso è arrivata attorno alla mezzanotte dopo essere stati ad un passo dalla rottura della trattativa tra sindacati e proprietà francese. Nessuno sarà licenziato per volontà dell'Abrioni che solo un mese fa aveva minacciato 402 esuberi. I 139 lavoratori che dovranno lasciare lo stabilimento di Penne lo faranno con la cosiddetta mobilità volontaria, cioè usufruendo di un incentivo che potrà raggiungere un massimo di 32.000 euro. Chi resterà al lavoro nello stabilimento che produce i capi maschili d'alta moda lo farà con orario ridotto a 32 ore settimanali, il che significa una consistente riduzione del salario. Un sacrificio tutto sommato e, viste le premesse, sopportabile, compensato da una tantum che l'azienda concederà ai lavoratori in una misura ancora da definire. Come ancora da definire, presso il Mise, a Roma, sono gli ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori. Nei tre stabilimenti Brioni dell'area Vestina sono in totale 1.260 gli addetti, fabbriche che hanno già subito una ristrutturazione del personale nel 2009, costata circa 300 posti. Lunedì, intanto, l'accordo trovato dopo giorni estenuanti di trattative dovrà passare il vaglio dell'Assemblea plenaria dei lavoratori. Noi siamo alla pagina sportiva, parliamo del Pescara, che prosegue la preparazione in vista del posticipo di venerdì sera al Partenio di Avellino. Tante le assenze in Casa Bianca Azzurra, da considerare i tre squalificati, ovvero Benalì, Torrera e Zuparic, e poi gli indisponibili Campagnaro, Crescenzi, Coda e Mazzotta. Per Campagnaro in serata sono stati effettuati nuovi esami strumentali. Domani si conoscerà l'esito e dunque si capirà se Campagnaro potrà rientrare prima della fine del campionato. Per quanto riguarda la formazione da opporre ai bianco-verdi-irpini, in difesa giocheranno al centro Fornasier e Mandragora con Vitturini e il rientrante Zampano sulle fasce. A centrocampo con Verre e Memuschai agirà molto probabilmente Bruno. Per quanto riguarda la zona della Trequarti, Verde o Pasquato, con Caprari a ridosso di Lapadula, unica punta di ruolo. Domani seduta al mattino al Poggio degli Ulivi, e poi ci sarà il pranzo e nel primo pomeriggio la partenza per la campagna in Casa Vellino. Da segnalare che la formazione di Marcolin dovrà fare a meno degli infortunati Migliorini, Gavazzi, Gidavi e Nica. In attacco il tecnico bianco-verde dovrebbe tornare ad impiegare la coppia formata da Muculu e Castaldo. Ricordiamo che la trasferta al Partenio è stata vietata ai tifosi biancazzurri. Ora parliamo della Virtus Lanciano. Una delegazione di dirigenti e calciatori ha preso parte questa mattina all'Istituto Comprensivo di Castelfrentano all'iniziativa intitolata Tra i banchi c'è la Virtus. Le immagini saranno proposte questa sera nel corso della trasmissione Virtus Style. Intanto nel pomeriggio la squadra si allenerà gli ordini di primo Maragliulo, che contro Lentella potrà contare su Salviato e Di Francesco, che sono pienamente ristabiliti. Ascoltiamo le parole del tecnico Rossonero. Ho preferito e preferisco anche adesso, in questo momento, semplicemente esaltare più la prova della mia squadra che dire che possiamo aver perso per una cosa o per l'altra. La stessa cosa, tra l'altro, se vi ricordate bene, l'ho fatta anche per altre situazioni extra campo perché sono convinto veramente di questa cosa. Io sono convinto che in questo momento del campionato noi abbiamo l'obbligo e il dovere di pensare solo ed esclusivamente a quello che dobbiamo fare sul campo. Questi sono ragazzi che in campo, in allenamento, danno veramente l'anima e sotto quell'aspetto io sono sempre tranquillo. Perciò immaginavo che Perugia potesse essere solamente una giornata storta e questo sinceramente l'ho verificato a Crotone, dove la prestazione, secondo me, contro una squadra fortissima che in casa ha lasciato veramente le briciole a tutti quanti, ha concesso pochissimo, ha fatto una partita più che dignitosa. Anzi, rispetto a qualche altra volta, gli episodi non ci sono girati a favore perché se alla fine del primo tempo avessimo avuto la fortuna o la bravura di andare in vantaggio magari la partita potrebbe cambiare. Questo non lo sappiamo, però la squadra si stava comportando veramente bene. E ora parliamo della Lega Pro, terz'ultima trasferta stagionale per il Teramo che sabato giocherà all'Artemio Franchi in casa del Siena. Vivarini spera di recuperare il capitano Ivan Speranza, più difficile l'impiego di Cenciarelli. Su questo finale di stagione abbiamo ascoltato il centrocampista Amadio. Diciamo che è un misto di disattenzione e sfortuna che va avanti da inizio anno e purtroppo non siamo riusciti a limitare questi errori, ne paghi le conseguenze. Poteva essere una vittoria importante perché contro una diretta rivale e con la quale avremmo potuto praticamente salvarci. Se avessimo affrontato così tutte le partite, soprattutto fuori casa, all'inizio della stagione a quest'ora saremmo stati un po' più in alto in classifica, avremmo potuto ambire a qualcosa di più importante. Probabilmente a due riusciamo a essere un po' più imprevedibili. Il gioco passa sia per me che per lui e magari riusciamo a dare maggiore fluidità alla manovra e essere un po' più pericolosi e incisivi davanti, soprattutto anche con l'inserimento di Mirko sull'esterno. Però è chiaro che pure a tre a centrocampo ci troviamo bene, riusciamo a gestire le partite però magari siamo più incisivi con due esterni larghi. È una partita fondamentale perché dobbiamo cercare, come dicevo prima, di chiudere il più presto possibile il discorso salvezza. I tre punti diventano molto importanti anche per poi giocare le gare con più tranquillità. Loro vorranno comunque mettersi in mostra, giocare. Sarà una partita come le altre. Noi dovremmo essere cattivi, approcciare la partita bene. Ti ripeto, è una squadra in salute. Ma ancora è presto. Io penso a disputare le partite che mancano, cercare di fare il meglio. E poi a fine stagione si vede. Vici un altro anno di contratto, ne parlerò con la società e poi vedremo. Non sono mancate le emozioni, siamo al calcio a 5 nel derby giocato ieri sera al Pallarigo Piano tra Pescara e Acqua e Sapone. 3 a 3 il risultato finale. È una giornata dal termine della regular season. Ora i Biancazzuri dovranno tentare l'impresa ad asti per chiudere la stagione al primo posto. Acqua e Sapone quasi certa della quarta piazza. Andrea Costantini. Non tradisce le attese il derby del Pallarigo Piano di Pescara tra i padroni di casa e l'Acqua e Sapone. Finisce con un verdetto di parità per 3 a 3. Centrato in rimonta dalla squadra di Bellarte prima in vantaggio, poi sotto di due reti fino alla parte finale della partita. Davanti ad una buona cornice di pubblico le due cugine, divise da una forte rivalità si affrontano a viso aperto. Anche se per vedere il primo gol bisogna attendere il quindicesimo minuto dopo un'azione pericolosa di Borruto Lara stende così burrito. È il sesto fallo ed è uno dei tanti ex Giona spinto a non perdonare e trasformare con decisione il tiro libero palla nel 7 e Capozzo battuto. La reazione del team di Colini non tarda ad arrivare un minuto e mezzo dopo Canal con un diagonale beffa Mammarella in uscita 1 a 1 e su questo risultato si va all'intervallo. Nella ripresa spingue ancora il Pescara con Canal che va più volte vicino a fare centro finché non giunge il momento di un altro ex Titi Borruto che al sesto capisce l'incomprensione tra Cesaroni e Burrito e fa secco Mammarella. Passa appena un minuto e l'argentino raddoppia assist di Leggero, Borruto, Sterza e supera Mammarella per poi insaccare a porta vuota 3 a 1. Sembra essere l'1-2 risolutivo ma l'acqua e sapone ha la pazienza di assorbire il colpo e affidarsi a Murilo, portiere di movimento. Mossa decisiva perché la squadra di Bellarte con pazienza prima accorcia grazie all'autogol di un altro ex, Rescia e dopo la gran parata di Mammarella sul Canal trova il pari a 90 secondi dalla fine. Il taglio di Burrito è letale per il Pescara che incassa il 3 a 3. Si torna in campo per l'ultima giornata il 16 aprile. Il Pescara, certo del secondo posto dovrà espugnare il campo della capolista Asti per soffiare agli arancioni il primato della regular season. All'acqua e sapone basterà un punto con la Luparense per blindare il quarto posto. E questa era l'ultima notizia della seconda edizione del TG6 vi ricordo la terza alle ore 23 ma non mancate questa sera alle 21 con Virtustai con Alessio Gian Cristofaro per parlare della Virtus Lanciano. È tutto, grazie e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie a tutti.